Serata noiosa, nulla da vedere in tv, in questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e benvenuti o bentornati se già mi conoscete, sono sempre su Introsiver, sul secondo video di Kingdoms of Armarur. Ecco qua, qua a terra c'è morto Nognomo, poveraccio. Noi siamo scappati dalla torre l'altra volta e l'abbiamo completato questa missione, no? Abbiamo completato questa qua, fuori dalle tenebre, no? Sono sfuggito a torre di Alistar, ora devo trovare Arcath, il tessitore. E questa è la nostra missione attuale, verso la luce. Quindi, vi ricordo che dobbiamo salire di livello e mi incuriosisce abbastanza Fucina alzare appunto lo scasso, il commercio, come vedete, però quello che mi interessa adesso è la persuasione. Dobbiamo essere in grado di fare... Cioè, voglio diventare un personaggio un po' politico, un po' diplomatico, quindi... Alla fine da pirata il nostro Sion, il nostro Silver cercava, il nostro personaggio, di risolvere le dispute anche senza ricorrere alle armi. Lo spadone, come vedete, è qua, perché a me piacerebbe iniziare ad usare gli spadoni, però dobbiamo avere determinati punti. Quindi, io prenderei punti qua in attacchi con le armi, ecco qui, conferma, e quando avremo 5 punti in questa abilità andremo a specializzare gli spadoni. Vedete, mosse, innalzamento, colpo è questo, e cometa umana teniamo premuto e poi partiamo l'attacco. Questi sono... abbiamo anche questo qui con il martello e con lo spadone abbiamo turbine come attacco. Tendiamo premuto. Praticamente prendiamo delle abilità che sono buone per tutte e tre le tipologie di armi pesanti qua. Ok, perfetto, che possiamo vedere in qualsiasi momento. Allora, proviamo a abilitarlo così. E uscendo, andiamo dritti di qua, vedete che abbiamo degli ignomi che sono qui a terra, i pretoriani. Questo l'abbiamo visto dentro, Claude Gun, dentro al campo, praticamente, mentre stavamo scappando. Quindi parliamo con lui. Se intendete nemmeno me cosa rocciosa, certo. Non so come i twatri hanno trovato, ma se avevano un troppo, non potrebbe essere un accidente. Chiediamogli del tessitore. Adesso? Il professor Hux, cosa mi sa dire? Hugh's run off, tu sai? I wouldn't worry too much. The old man's tougher than he looks, and he's always got a plan. E le pozzo delle anime? Beh, è stato incredibile. Ma si tratta di un pozzo di cristalli prismi per mantenere la cosa attiva. E' per questo che abbiamo costruito così vicino a le città di città di città. Si hanno messo in alcuni tonnelli per portare le cristalli direttamente in la scuola. Mi ha detto che non era sicuro. Si sembra che ero bene. Di nuovo. E troppo? Sono tecnicamente un tipo di famiglia di famiglia. Relato con la famiglia del famiglia e del vento, in realtà. È abbastanza pericoloso in la famiglia. Le Tuatha anche usano le loro armi. E Tuatha? Non avevano mai creduto la famiglia di famiglia. Ma queste Tuatha sono la peggiorata. Ci hanno avuto un tipo di guerra per gli uomini e l'alpha per anni fa. Ma le fronte sono all'estero. Che facciano qui? Come si sa di questo luogo? Beh, arrivederci. Allora, come vedete, la nostra minimappa ci indica di andare avanti. Durante i video, ragazzi, faremo le missioni di trama principale. Adesso sto prendendo i reagenti, come vedete, ma non è mio interesse andare a combattere contro i vari nemici nella zona. Qua attorno. Quindi, muoviamoci. Nessun reagente trovato. Ok, perfetto. Che cosa sarebbe un tessitore? Che cosa sarebbe un tessitore? Beh, Hux mi ha mandato a cercarvi. Che cosa sapete di Hux? Quando ha iniziato i suoi esperimenti qui, mi ha chiesto se sarebbero succesi. Le carde mi dicevole che il welle di souls funzionerà, ma il suo successo venerà nel giorno che Hux era a morire. Il vecchio l'alpha ha fatto molto bene, sinceramente. Le carte. Le carte. preferite le carte. Le carte sono uniche a ogni fateweaver, perché tutti vediamo la carta differente. Ok, guardate adesso come aumentate la nostra persuasione. Potreste aiutarmi? Allora, credo che potrei spavere un po' di help in memoria di Hux, o in celebrazione del suo successo. Qualcun. Allora, abbiamo ottenuto una pozione di mano superiore e di rigenerazione salute superiori. E diremo, beh, mio caro Messera, anch'io ero morto. Tu, tu sei la persona. E questo significa, che tutto rende sensato ora. Le carde questa mattina. L'arrivo l'arrivo, 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 Preparatevi. Ci sono arrivati. Ok. Esegui attacchi speciali e sconfiggi i nemici per accumulare energia del fatto. Allora, quando l'indicatore del fatto è pieno, vedrai il simbolo del fatto lampeggiare e a quei punti userai l'energia del fatto per attivare la modalità giudizio. La modalità giudizio incrementa ulteriormente la velocità e potenza d'attacco. È solo la dura affinché l'indicatore del tieni premuto per sfruttare il potere del fatto e attivare subito la modalità giudizio. Ok. Man mano che sconfigge i nemici, essi incominceranno ad affrancarsi al destino. Allora, avvicinate un amico affrancato al destino e premi per eseguire x, per eseguire un mutafatto. In questo modo consumerai tutta l'energia del fatto restante istruggendo tutti gli altri nemici affrancati dal destino, ottenendo un bonus di esperienza. Continua. Ok. Ah no. Ehm. Ehm. ma non ho mai visto nessuno manipulare loro come questo. Tu solo cambiarono come il mondo potrebbe funzionare. Come hai fatto questo? Hughes potrebbe portare a te in vita, ma questo era ancora parte del plan di fai. Niente di più di Dio che può fare quello che hai fatto. Veni qui, faccio una lettura. Puoi essere potuto cambiare le fai, ma Fate ancora avrà un plan per te. Mi prometto non dirvi se vedo la tua morte. Allora, per questo Junks mi ha mandato da lei. Bene, mostrami il mio destino. Non riuscite a vedere il mio destino, dunque. Allora, vedete, abbiamo sbloccato dei destini. Senza fatto. Il tuo fatto è indefinito, privo di contorni definiti. È pronto per essere forgiato nella forma che vorrai scegliere. Ok. Ladro. Requisiti destrezza 1. Vedete? E qui abbiamo tutti gli altri destini che in teoria li possiamo sbloccare raggiungendo. Vedete anche forza, destrezza, quelli ibridi. Questa è una cosa molto bella. Lottatore, attacchi mischi, efficace parate, danno elementare e ladro, attacchi a distanza, resistenza al danno quando scrivi, perforazioni. Io direi senza fatto partiamo. Partiamo prendendo questo. Imposta destino. Comprimi tutto indietro. Ah, dovrebbe per forza impostarne uno di questi. Le parate non è che le usano molto, eh. Però impostiamo questo, dai. Cosa avete visto? Cosa significa? Cosa significa tutto ciò. Cosa significa nulla. Cosa significa tutto. Il mondo è cambiato. Potresti essere un segno di questo. O magari la causa. Non ho mai avuto una ragione per dubbare le mie lezioni. Ma dovremmo consultare con Arden. Non è un amico, ma ha un buon occhio per la tapestria. Vi trovo a casa, a l'estero. Vedo se posso essere di alcuna giusta per i miei bruciati nella torre. A che cosa è. È... ... questo Arden, chi è? Pagatemi dal fatto. Pagando di Ux. Pagatemi dal fatto. 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 E' Tuatha? Tu vi gaccio di Gohart, me ne parli. La corte del sol, eh? La corte del sol, eh? Dunque, cosa è accaduto qui? Si, sembra che si è accaduta con qualche modo di corte. Probabilmente una taglia, ma non c'è una forma di sicuro. La gente si parla solo quando si chiamava aiutare. Nenuno ha accaduto una mano. Puoi immagini? Si, sembra che sia accaduto. Si, sembra che sia una fai. Non so se abbiamo il conocimento di trattare una fai. Non so se non so se potrei salvare una morta con una fai. Chi ha attaccato la ragazza? E' difficile da dire. Siamo stati spiegati dalla legione rosa per giorni. Ma non è il loro modo di andare a seguire le fai in l'area. Sono come i loro target mortali. In caso di che non hai ascoltato, ci sono alcune attività di Tawatha nella città del sud. Quindi è anche una possibilità. Non è sicuro, però. Mi piacerebbe aiutarli. Beh, sei l'unico. Con tutti i problemi che abbiamo sofferto in questo villaggio, le persone sono sbagliate di una diversità. Le piacerebbe solo ignorarlo. Io vorrei suggerire qualcosa un po'... Non tradizionale. C'è una fai chiamata Derry. Ha spiegato i giorni sull'area, a guardare il villaggio. Seguisci la sabbia. Io lo faria, ma... Io sono una fai. E' la verità. Potremmo una fai saprà come curare una fai. Dove posso trovare Harry? Ok, abbiamo una nuova missione. Costruire ponti, ragazzi. Allora, siamo giunti qui a... al villaggio. E... Potremmo andare a vedere questa cosa della consegna speciale. Ecco qui. Entriamo qua dentro e vediamo questa cosa degli oggetti che ci vengono dati. Quindi... Forse alcuni di essi. Ma qui abbiamo un'altra missione. E... Allora... Il baure però me lo segnava qua dentro. Ragazzi, scusate. Fatemi riuscire fuori. Chiedo scusa. Veramente. Però... Mi sembrava che me lo segnasse qui dentro. Sennò poi... Vedo di sbrigarmela io tra un episodio e l'altro. Al massimo ve lo clip. Se è qualcosa di... Importante, eh? Quindi... E' una mia semi-blind run, eh? Questa qui perché... Effettivamente... E' da tempo che non... Sono anni che non lo gioco questo titolo. Avrei voluto evitare di sottoporre il video a questi caricamenti. Però... Ero convinto di entrare lì e trovare il... Appunto... La... Come si chiama? Forse è questa la cassa, ragazzi. Sì. Tunica della valle. Guanti della valle. Scarpe della valle. La verità. La fiamma. Il campo. La canzone. Corazza del guardiano. Lemmo del guardiano. Guanti del guardiano. Calzare del guardiano. Gambali. La montagna. La torre della bestia. La forcia. Armatura della corsa. Cappuccio. Sono set per ogni... Praticamente... Vedete? Em infernale. Corazza di Shepard, ragazzi! La corazza N7! Quindi... Vedete? Ci vengono dati una serie di... Armi che poi vedrò di utilizzare... tutte quante durante il nostro gameplay, eh? Quindi... Allora... Vediamo se... Queste sono tutte armi che possiamo ottenere. Io tornerei su. Ok. E facciamo un prendi tutto. Non si può prendere tutto. Hai raggiunto l'inventatura. Può essere incrementato acquistando zaini da certi mercati. Elimino vendi oggetti per fare spazio. Ok. Perfetto, ragazzi. Nuova alterazione fatta ottenuta. Sicuro di sé. Percorri il tuo cammino con l'esimventura e una serenità non comuni e patisci meno gli estremi. Resistenza al ghiaccio e resistenza al fuoco. Precursore. Queste sono le nuove alterazioni che abbiamo ottenuto grazie al baule dei consegni speciali. Possiamo sempre attingere a questo baule, quindi, ragazzi, che dire. Allora... Vediamo le nostre missioni... Verso la luce. Ok. Poi su tutte le altre missioni vedrò di attivarli o giocarli insieme a voi. Vediamo, eh. Perché. Allora. Muoviamoci di qua. Fatemi solo controllare se la missione è giusta, eh. parla con Arden. Anche perché siamo quasi al nostro tempo limite di video, credo. e quindi vediamo se, viaggiando di qua... non abbiamo una mappa del mondo, eh. Poi abbiamo un'altra piecra del fatto. Abbiamo tolto la piecra del sole. che si manifesta come un'immortal fei. Tu lo conosci e lui, lui e lui, come il guerriero risplendente, o il conquistatore risplendente. Tu mortali lo chiamavano King, Issa. Nella nuova della memoria della tua gente, ti portai attività ai esploi. E' la tua legenda di potenza e eminenza. Ok, signori. Qui c'è qualcuno che sta combattendo contro i Boggart. ma abbiamo un inventario pieno, ragazzi. Possiamo parlare con questa persona? Ah, ragazzi, questa è la storia dei denti di Naros. Il nome è sufficiente per mettere molti esploratori. Bugga-le, posso dire. Solo meno competizione. Inoltre, cosa è in un nome? Ho spento due anni cercando di fare una fortuna in una terra che si chiama The Painted Orsks. non avevo capito cosa era un orso. Spedizione. E mi parli di Guys Very Broad. Dov'è diretta la spedizione? Dov'è diretta la spedizione? Si chiama Hellic Cross. Si è guidandoci. Siamo campi di Etnmere. Sì. 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 Ragazzi, abbiamo scoperto, penso che sia la DSC questa. Abbiamo fatto nuove conoscenze, scoperto nuove cose qua all'interno di Armalur. Abbiamo visto che abbiamo nuovi set di armatura. Che dire? Se vi è piaciuto, ragazzi, questo episodio, io vi chiedo di piazzare un pollicione su un like per appunto supportare il mio canale. Ma soprattutto, se vi piace quello che porto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, attivando la campanella in alto su a destra, nel vostro schermo, per sapere sempre quando pubblicherò qualcosa di Armalur o pubblicherò nuovi contenuti di Skyrim, nuove live, nuove live di Dark Souls o video guide di altri videogiochi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti e grazie di aver visto il mio video.